insomma oggi siamo qui assieme a Matteo hai visto Micciu? ciao Micciu! te l'ho detto dovevi venire, cazzo tuoi non sei venuto chi vi ha portato? le gambe ci hanno portato, l'idea è stata la tua però ci hanno portato le gambe e anche buone per arrivarci, vero? il cuore però è rimasto a metà stasera piccola stradina dai, dai posto non è male, c'è un bel buino il cuore dei finanziamenti fa le regolazioni giustamente siamo a promuovere il volo in fpv abbiamo anche Marta del canale Ona seguitela perché è tosta veramente non fa i danni se non ti è finito a farlo quello è il problema è poco massimo in organica alla grana ciao 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 ciao